Nella vita abbiamo tanti dubbi. Essere o non essere. Ma anche tante certezze. Gravità. Ad esempio, sappiamo che la Terra è tonda. Un triangolo ha tre lati. Il fuoco brucia. Leonardo ha dipinto la gioconda. 2 più 2 fa 4. E U è uguale a U. Ma cosa significa questa semplice equazione? Le evidenze scientifiche dimostrano che una persona con HIV che segue regolarmente la terapia e a carica virale non rilevabile non trasmette il virus. Nemmeno con un rapporto sessuale non protetto. U uguale a U. Impossibile sbagliare. In presenza di una carica virale stabilmente non rilevabile il rischio di trasmissione dell'HIV è zero. Scopri di più. Informati su impossibilesbagliare.it